io mi chiamo monica cita e come avrete capito dal mio accento vengo dalla mia amatissima campania ho pensato questa cosa o lo faccio adesso oppure me ne pentirò per tutta la vita non lo farò mai più ho visto su internet questo bando tra un mese iniziano i test ho prontato questo flixbus da napoli metro park a torino dopo 12 ore sono arrivata ho fatto il test appena ho parcato la soglia di questo cortile ho detto io da qui non me ne voglio andare pensavo di trovare comunque delle persone professionisti in grado insomma di prendermi per mano e appunto indicarmi quale fosse la scoperta della mia voce alla fine ho capito che le persone professionisti non ti prendono per mano ma chiedono gli strumenti per farlo da sola e alla fine ho capito che la mia voce quella che la mia voce appunto d'autrice era una cosa che già era sepolta in me questa scuola mi ha aiutato a disseppellirla appunto come come dice ungaretti quando parla del porto sepolto è la stessa cosa la correzione del cimentone cioè il primo romanzo breve che abbiamo scritto l'anno scorso sono cose che hanno contribuito a proprio alla formazione della mia identità proprio come autrice le ricorderò per sempre cosa farò sicuramente continuerò a scrivere c'è per me la scrittura non è una cosa che esaurisce in questi due anni e poi dopo appenderò la penna al chiodo assolutamente no sicuramente continuerò a scrivere a lavorare sul mio romanzo e poi insomma vediamo un po quello che verrà ma sicuramente non non mi fermerò e non mi perderò d'animo vi siete mai chiesti banalmente perché perché vi lavate i denti perché mangiate la pizza perché camminate semplicemente è una cosa a cui non riesco a sottrarmi non riuscirei mai a farlo